Bello a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video sono maullo941 e siamo tornati su Fall Guys signori con la nostra supposta o tic tac non lo so come vi piace chiamarla la chiamiamo A me sembra proprio una supposta con le braccia cioè quella la forma Comunque signori detto questo prima di partire con questa nuova avventura nella speranza di riuscire prima o poi a raggiungere una vittoria Una corona signori ma le stanno dando solamente per ne ho due solo per pietà Ma praticamente non abbiamo mai vinto una partita in forse dieci episodi non lo so comunque non mi non mi butto giù di morale Ma ci proverò sempre fin quando non ci riuscirò continuando a portare qualche video per cercare di ottenere qualche corona Fin quando dico vi piacerà vedere questa situazione mia deprimente terribile brutta comunque Eh signori allora prima di partire il video io vi ricordo di iscrivervi al canale vi ricordo di lasciare like di commenti Tutto quello che volete se volete il numero di telefono lasciatene pure se volete essere salutati iscrivetelo pure fate quello che volete L'importante è che sostenete la serie e che mi seguite su instagram dove mi trovate come maullo941 Soprattutto perché tramite le stories vi informo sulla programmazione dei video che escono nel canale E sulle live che faccio sia su questa piattaforma che su quella viola nella quale vi suggerisco di seguirmi anche lì Così potete venirmi a trovare anche in live e eventualmente giocare assieme Detto questo mi sto un attimo ad affogare ma non perdiamo tempo e partiamo con il gioco signori Ok signori big fans Questo l'abbiamo fatto l'altra volta che me la facevo passeggiare tranquillamente su una piattaforma e l'altra aspettando che girassero E abbiamo fatto abbastanza cagare Quindi se non ricordo male dobbiamo essere più veloci e saltare senza perdere troppo tempo Da piattaforma a piattaforma cercando di arrivare alla fine Allora dico l'obiettivo è arrivare magari al terzo livello L'obiettivo è magari arrivare al terzo livello Non dico la finale perché la finale non la raggiungeremo mai nemmeno se io chiamo gli sviluppatori e li pago Ma c'è un'altra supposta là davanti come noi Ok Dai 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 vai veloci Troppa cacciara Troppa confusione Troppa confusione Aiuta 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 Ok ok No 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 E levati unicorno di questa gran cippa Perché l'unicorno ce l'ha con me signori Ma perché faccio antipati alle persone Dico ma qualcuno si fa i fatti suoi Vi levate scusatemi Salve salve Vai salta No non ci credo ho cascato Ma stiamo a scherzare Ho cascato subito così all'inizio A mezz'ora a parlare con l'unicorno E sto caduto a terra No ma dai Ma perché iniziamo proprio così male Ok il tuffo Il tuffo ha funzionato Il tuffo tuffo ha funzionato Dai così dai così dai così dai così Tuffati Grande ok ce l'abbiamo fatta Siamo ancora in corsa con l'unicorno signori Siamo ancora in corsa con l'unicorno Calma questi ora faranno la cacciara No 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 non mi spingere mannaggia a te Dove devo andare io Siamo molto lenti signori Questa cosa non va bene Non va assolutamente bene questa cosa Questa cosa non va assolutamente bene Questa cosa non va assolutamente bene Siamo troppo lenti signori Siamo troppo lenti Uno già ha completato E porca miseria Ma chi sei lo sviluppatore del gioco Che già hai completato il livello Fermi 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 Mi salta No 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 mamma mia come mi sono salvato signori Come mi sono salvato Ero saltato troppo prima Ma no Già voi a chi non ve lo dice pure No 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 Sta tornando sta tornando Porca miseria in cinque Già hanno completato Ma stiamo a scherzare Io sto ancora qua a contare le fragole Dai così Dai 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 Calma e sangue freddo Calma e sangue freddo Che ce la possiamo fare Io sento che ce la possiamo fare Signori Dobbiamo credere in noi stessi Dobbiamo credere in noi stessi Occhio 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 bello così Occhio 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 che torna Occhio che torna Occhio che torna Dai e così Dai 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 così salta Salta col tuffo Ok Calma 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 signori Calma calma Occhio alla barra che arriva Occhio alla barra che arriva Ok Dai là il traguardo E là Signori ce la possiamo fare Ce la potremmo fare Se riesco a non cascare con sta barra No no guarda che bastardo Così impari Così impari Dai così Questi li lascio litigare Signori Primo livello superato Ce l'abbiamo fatto Con tuffo a supposta Dai così Ventesimi Ventesimi Tanta roba Zitto zitto Cacchio cacchio Siamo riusciti a passare Non me la Non ci avrei giocato niente Su questo primo livello Che è abbastanza complicato Qui il lupo Ha deciso di non giocare più Si è stancato Abbandonato E stanco E' complicato come livello Più che altro Perché c'è troppa confusione Troppa gente che ti viene addosso Troppa 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 confusione Comunque Piano piano stanno arrivando tutti Al traguardo Si sono qualificati già in 30 Su 43 Vediamo qual è il prossimo livello Signori Siamo rimasti in 38 Signori Siamo rimasti in 38 Si va avanti Si va avanti Vediamo qual è il prossimo livello Speriamo che sia qualcosa di fattibile E che non sia qualcosa di complicato Soprattutto Più che altro Qualcosa che riusciamo a fare Un livello che riusciamo Memory Ok Calma Calma Memory è fattibile Signori Memory è fattibile Memory è fattibile Concentrati Concentrati Con calma Con calma Concentrati Easy busy lemon squeezy Ce la facciamo Signori Ce la facciamo Ce la facciamo Ok Calma 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 Allora Melone Ciliegia Ok Melone Ciliegia Ci sono solamente melone E ciliegia Ok Melone di qua Ciliegia a destra Ok Vediamo cosa uscirà Melone di qua Ciliegia a destra Siamo sul melone Noi signori Noi siamo sul melone Possiamo andare sulla ciliegia Cosa esce Cosa esce 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 Ciliegia Quindi di qua Ok Non mi spingete Mannaggia Alle vostre mamme Dai dai Ok Qualcuno è cascato Signori Qualcuno è cascato Ok Allora Stiamo calmi Uva e banana Banana Uva Melone Ok Uva Banana Melone Uva Banana Melone Uva Banana Melone Ok Uva Banana Melone Uva Banana Melone Uva Banana Melone Uva Banana Melone Mela Dove cazzo è la mela Signori Sono tutti qua Io vado dove sono tutti Sperando Mamma mia Non l'avevo proprio vista La mela Signori La mela Non l'avevo proprio vista Ciliegia Anguria Mela Arancia Mela Arancia Ciliegia Uva E melone Ok Melone Ucchio Ucchio Signori Non lo so Non lo so Anguria Dove sta l'anguria Dove sta l'anguria Tutti sono qua Tutti sono qua Voglio stare pure qua Voglio stare con voi Sì Signori Livello superato Ce l'abbiamo fatta C'è un altro livello No C'è un altro livello Sì Qualificati Signori Nella confusione più totale Nella confusione più totale Va bene così Non so come abbiamo fatto Superare il livello Però va bene Ma qualcuno è stato eliminato Secondo me no Infatti Non è stato eliminato nessuno Uno solo No Che cosa brutta Che cosa brutta Siamo arrivati in 35 Mamma mia Meno male che mi sono fidato Degli altri Perché dico Non Completamente Sono andato nel pallone Più totale Nel pallone più totale Qual è il prossimo livello Roll out Ok Roll out Lo sappiamo fare Signori E siamo già al terzo livello Attenzione L'obiettivo è raggiunto L'obiettivo è raggiungere i tre livelli E li abbiamo raggiunti Soddisfazione Soddisfazione Signori La nostra supposta Porta bene Abbiamo fatto tantissime skin Avete visto Alla fine Vince la skin della supposta Siamo perfettamente in mezzo Proprio nel posto peggiore di tutti Andiamo sul bordo Ok Stiamo calmi Questo si muove in questa direzione Ok Calma Calma Eh dai Lasciatemi stare Mannaggia le vostre sorelle Dai così Dai così Calma Calma Mamma che la vedo brutta Devo passare Devo passare Devo passare Devo passare Subito Ok 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 Calma 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 Dobbiamo passare di nuovo Sull'altra piattaforma Dobbiamo passare di nuovo Sull'altra piattaforma Passiamo ora Vai 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 Ok Calma 9 già sono stati eliminati Dai Dai così Dai così Passa ora Ok Ok signori Ok In 12 già sono stati eliminati Dai Eliminano un altro Eliminano altri due Qualificati Veloce Rapido Indolore Easy Bizzy Lamo Squizzy Signori Veloce 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 Bello così Altro livello superato Terzo livello superato Da scrivere nel calendario Signori Su 25 Rimaniamo in 20 21 21 Siamo al quarto livello Signori Ma che gran bella partita Ma che gran bella partita Prossimo livello Qual è? Quello Ti prego Non dei cerchi Non i cerchi Do mi ci do tuffa dentro Ok Hoarders Hoarders Dove essere quello Di portare i palloni Dal proprio lato Del campo Ok Questo è un gioco di squadra Molto difficile Molto difficile Che colore siamo noi? Che colore siamo noi signori? Che colore siamo? Che colore blu? Ok Dobbiamo portare tutti i palloni Dal nostro lato Signori Senza 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 Troppi set Troppi panna Dai 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 così Dai così Dai così Portalo 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 Dai Una bella testata Vai così E due ce li abbiamo Due ce li abbiamo Andiamo a prendere quello Andiamo a prendere quello Che non se lo caga nessuno Dai 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 Veloce 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 Omino Omino supposta Dai 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 Mettiamo lì Nel veretano Dai 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 Dove sta andando con sta palla? Devi andare là Perché? Perché sta? Madonna mia Come sta? No Dai leva di giallo Ti faccio una Una smash Un colpo di racing Ti faccio Mi lasciate questa palla Scusatemi Sono venuto io a prendere questa palla Mi lasciate questa palla No Non l'avrete voi Non l'avrete voi Questa palla è mia Questa palla è mia Porca miseria È tornato il rosso È tornato il rosso molto arrabbiato È tornato il rosso molto arrabbiato Attenzione rosso e giallo Ci stiamo giocando La partita con rosso e giallo Con rosso e giallo Mi sto a portare pallone Mi sto a portare pallone Ce lo sto riuscendo Ci sto riuscendo No Gli ho regalato i gialli Ma sono scemo Ma sono scemo Signori Gli ho regato il pallone gialli Gli ho regalato il pallone gialli No 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 Tornato il rosso Signori Sto cercando di lottare Ho tutte e due le squadre qua Intanto il blu Hanno più palla di tutti Dai così Quel pallone Deve essere nostro Signore Lo devo conquistare È proprio una questione di principio Bello quello che è diventato blu Quello è diventato blu Blu ne hanno 5 signori A 11 secondi dalla fine No 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 Quel blu Quel blu deve rimanere dentro Quel blu deve rimanere dentro No 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 Non hanno capito niente Non hanno capito niente questi 2 1 Finita Qualificati signori Alto livello superato Dai è così Ci ho provato Ci ho provato dai I miei disturbi Nei rossi E nei gialli Ha portato a confusione E non si sono riusciti a organizzare In quanti rimaniamo? Rimaniamo in 14 Signori Quarto livello superato Porca miseria Ci metterei alla firma Per riuscire a fare sempre Ste partite Qual è il prossimo? Prossimo livello Prossimo livello Prossimo livello Prossimo livello Attenzione X Agon È la finale Sono arrivato in finale Forse è la prima volta L'hexagon Ok Questo non lo so fare signori Quindi Vi comunico che stiamo per perdere la finale Vi comunico che stiamo per perdere la finale Però siamo arrivati in finale Tanta roba Siamo arrivati in finale Siamo arrivati in finale Siamo arrivati in finale Sono contento di questo Dai così Mannaggia No 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 Dai così Dai così Calma C'è la tecnica del saltello sul saltello Saltello sul saltello Mannaggia le vostre sorelle Il saltello sul saltello Me l'hanno fregato No Mamma mia Mamma mia Sono proprio cascato giù Ma porca Dai e dai e così Non voglio Ma si eliminano subito Una volta duravano più di più Sti cosi Porca della paletta Ambriaca Dai così Dai così Non voglio essere il primo a essere eliminato Signore Non voglio essere il primo Mannaggia Mannaggia Guarda 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 questa Che mi deve per forza correre davanti Guarda 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 Mi deve superare per forza Per levarmi I cosi Guardalo Guardalo che bastardo No 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 Mamma come l'abbiamo lisciata Ancora non è morto nessuno signori Non è morto nessuno E noi saremo i primi a morire Scommettete No due già sono morti signori Soddisfazione In tre già sono morti Quindi non siamo stati i primi a essere eliminati Questo livello non lo sopporto C'è niente di male No no salta Siamo eliminati Signori Siamo stati i sesti a essere eliminati Piano piano stanno cascando tutti Non so se la tecnica migliore è il correre così come dei pazzi O saltare come facevo io Certo forse forse se correvamo era meglio Se correvamo forse era meglio signori Vediamo chi è che si giudica la vittoria finale Questo è cascato male E' finita signori Dodicesimo è rimasto questo E un altro Che non so chi sia Ma questo sta per cascare male No si è salvato Ma sta per cascare male E' cascato male Vincitore signori Finisce qui Siamo arrivati in finale però Tanta roba Siamo arrivati in finale Ha vinto il fa per otto Che carina questa skin Che feste già come un robot Va bene signori Detto questo Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Spero che Questa Passa in più su Fall Guys Vi sia piaciuto Spero alla prossima volta Di riuscire ad arrivare nuovamente in finale E niente Io vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per il like Per il sostegno Per tutto quanto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao